1, 2, 3 via 2 prove che avete fatto i ragazzi, gli allievi come si sono comportati? molto bene siamo ormai alla fine della stagione per loro noi ogni anno facciamo un equipaggio nuovo a settembre e poi cerchiamo di fare tutti gli impegni più importanti adesso verso giugno e luglio sono le ultime regate per cui si sono comportati molto bene a bordo con lei mi sembra che ci sia anche un personaggio d'eccezione conosciutissimo nell'ambiente velico tale Carnevalli, me lo conferma? si confermo, il professor Carnevalli per noi è uno degli istruttori di vela dell'Accademia Navale ormai ha insegnato vela a generazioni di allievi se non sbaglio il suo 25esimo anno in Accademia quindi è un po' di tempo che insegna vela o cerca di insegnare vela agli allievi comunque la regata è andata bene ci vediamo domani per le classifiche per vedere le prossime prove l'attendiamo alla premiazione ci sarete vero? non tornerete a Livorno subito? no, qualcuno di noi rimarrà in funzione ai condizioni di meteo la barca la riportiamo a Livorno domani però qualcuno di noi ci sarà sicuramente alle premiazioni e speriamo domani in previsioni meteo similare a quelle di oggi lo speriamo anche noi acqua di mare, spezia tv è tutto dalla Molitalia che è tutto da qui? grazie a tutti